tante tanti apprezzamenti tanti ringraziamenti ovviamente la mamma di carlo e qualcuno chiede forse così con un po di riverenza se carlo ancora continua a farsi sentire non so attraverso questi segni di cui parlavamo e poi c'è salvatore e chi dice antonia io ho sognato carlo che mi diceva di non aver paura tutto si compirà la vocazione ecco questa parola molto bella per noi credenti secondo te carlo cosa pensava della vocazione posso aggiungere una cosa avrei pensato ogni tanto che questo ragazzo si facesse prete non so frate francescano era tanto vicino ovviamente a san francesco d'assisi o che magari diventasse papa un domani e cosa pensava della vocazione magari ha fatto qualche confidenza ogni tanto raccontaci ma guardi prima di morire eravamo a santa margherita ligure mi ricordo che tornavamo dalla messa e lungo il viale ancora mi è proprio impressa questa cosa perché poi sono quei momenti gli ultimi momenti uno vive che si ricorda sempre no gli ultimi momenti della vita di mio figlio mi ritorno spesso in mente e mi chiese così improvvisamente dice che cosa ne pensi se io mi facessi sacerdote e io diciamo rimasi abbastanza colpita da questa domanda poi gli risposi beh insomma lo capirai da solo perché come se uno si innamora si vuole sposare queste sono cose che deciderai da solo ma io sono contenta qualsiasi cosa tu decida di fare e però questa stessa domanda l'aveva posta la nonna quindi è chiaramente mi fa per presumere che carlo avesse in mente una vocazione d'altra parte quando lui studiava al liceo e mi chiese proprio cioè diciamo lui a un certo punto ha iniziato diciamo a fare l'aiuto catechista verso gli undici anni e poi ha cominciato anche a fare il catechista perché era bravo era preparato quindi gli chiedevano anche a volte sostituiva le catechiste però diciamo mi chiese proprio di essere più attivo proprio nella vita diciamo proprio pastorale della chiesa della sua parrocchia quindi io gli dedo il permesso perché poi animava i gruppi dei ragazzini quelli della cresima e insomma e quindi diciamo sempre più coinvolto no in questa quindi chiaro che ci aveva a cuore ma poi soprattutto anche questo zello apostolico quell'animava come per esempio fare queste mostre no ad esempio la mostra sui miracoli miracoli eucaristici ha passato ore ore di notte a lavorare per questa cosa d'estate invece di stare lì a vedere film cosa stava là a lavorare sul computer a scrivere i testi ad aiutare poi era difficile a quei tempi reperire materiale quindi anche queste immagini che si trovavano spesso sfocate brutte perché lui voleva che la mostra sui miracoli eucaristici fosse iconografica cioè che ci fosse proprio l'aspetto anche iconografico e tanto a più che mi costrinse a fare un sacco di viaggi perché spesso siamo dovuti andare a fare proprio le foto le foto di questi luoghi perché non era facile trovarli ma parliamo già di tanti anni fa quando inter non era così però carlo aveva intuito che internet aveva un potenziale enorme l'aveva proprio capito e intuito è proprio ed è per questo fatto della della sua attività pastorale no ecco mi fa pensare lo faceva proprio con amore come diceva santa teresina di lisier che lei diceva che voleva essere tante cose no soprattutto missionare il suo sogno però poi aveva capito alla fine che ciò che contava era veramente fare tutto qualsiasi cosa si fa con l'amore no con amore e carlo veramente queste cose che ha fatto nonostante non abbia fatto il missionare o chissà quali imprese però le faceva proprio con grande amore proprio per l'amore di gesù che voleva che venisse conosciuto volesse amato che la gente capisse questo ecco quindi io penso che veramente dentro di lui ci fosse l'anima di un pastore penso che avrebbe intrapreso la vita sacerdotale perché era troppo diciamo interessato alla alle alle anime cioè alla loro salvezza pregava poi lui aveva avuto delle esperienze con anime del purgatorio che gli avevano chiesto preghiere quindi ovviamente lui si pregava molto anche per le persone defunte cioè aveva questa consapevolezza questa visione dell'aldilà questo rapporto non era solamente un rapporto diciamo era un rapporto forte che aveva perché aveva avuto queste esperienze che da allora queste preghiere che lui faceva continue per le anime del purgatorio applicava le indulgenze ecco quindi ci aveva proprio a cuore anche questo rapporto con 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 le anime del cielo ecco con i santi con soprattutto ecco quindi fa capire che c'era in lui proprio questa dimensione che però non gli impediva di essere un ragazzo molto concreto molto realista cioè che viveva proprio immerso nella sua realtà quindi non era uno che era fuori dal mondo ecco però viveva questa comunione continua questa connessione tra il cielo e la terra ecco non separava le due cose soprattutto quello che è importante è che non separava la sua vita di fede con la vita reale come fanno tante persone tanti cattolici cioè vado a messa faccio le mie preghiere e poi la mia vita è un'altra cosa no deve essere veramente un tutt'uno quello veramente ci rende completi ecco perché la fede va vissuta sempre carlo viveva questa presenza di dio costante nella sua vita non è che per carlo dio non c'era in quel momento però a volte c'era carlo proprio la viveva la sentiva e lo testimoniava e questo si vedeva si era palese e naturalmente quello che poi colpiva tante persone ecco devo dire questa idea anche dell'aiuto catechista e poi del catechista è bella è il mio cavallo di battaglia io mi auguro che tutti i ragazzi adolescenti piano piano sperimentino come carlo anche questo aspetto antonia hai parlato veramente di tante forme di preghiera che carlo viveva e che effettivamente però diciamocelo agli occhi di tanti ragazzi di tanti giovani vengono ritenute forse un po' noiose un po' difficili un po' senza senso no e allora a questo punto mi piaceva prendere una di queste domande rivolte questa volta ad antonio e ad antonio chiedono dato che ne hai parlato nella tua esperienza adorazione e eucaristica e rosario si va bene ma come possiamo concretamente far avvicinare i giovani a questi due momenti è una domanda per te antonio beh una bella sfida non ho la risposta però magari ci puoi aiutare beh io penso che innanzitutto prima di portare un giovane no alla preghiera dell'adorazione e del rosario quello che spinge ad ascoltare un giovane un altro giovane è la testimonianza della propria vita un po' quello che ha fatto carlo anche tra i banchi di scuola innanzitutto quello che metteva un po' anche in crisi i suoi compagni era proprio la testimonianza di vita la coerenza di vita di carlo no quindi prima che le parole parlassero erano erano i fatti era il suo esempio che tra l'altro anche quello che dice gesù nel vangelo no dall'amore vi riconosceranno quindi io penso che il giovane di oggi innanzitutto ha bisogno di una testimonianza viva e concreta di un altro giovane che ha sperimentato un incontro d'amore con gesù allora da questa testimonianza viva concreta l'altro giovane intravede il signore questo l'abbiamo visto anche noi nel nostro gruppo perché le parole a volte le porta via il vento invece un giovane anche con tutte le battaglie i dubbi di fede che vive però se vede veramente dall'altra parte un altro giovane che che sta cercando cristo e che si è lasciato visitare da gesù non è indifferente quindi penso che questa luce la luce porta altra luce ecco questo quindi innanzitutto è la testimonianza della nostra vita portare un'esperienza concreta e poi dopo possiamo incontrare veramente gesù nell'eucarestia ma prima è un'esperienza personale che dobbiamo fare ognuno di noi quindi la fede passa per contagio eh lo possiamo dire anche se la parola contagio è un po' pericolosa in tempi come questo ma chiaramente un contagio sano no dobbiamo accendere focolai buoni belli eh di amore e di fede come Carlo ha saputo fare anche poi anche attraverso di voi e c'è una domanda per Camilla a proposito di ecco testimonianza di giudizi degli altri Claudia ancora chiede una domanda per Camilla quando hai sentito di allontanarti dalla chiesa oltre i tuoi familiari cosa ti ha spinto ad avvicinarti nonostante la paura del giudizio altrui penso che in tutto questo sia stato tutto opera di Carlo e quindi di Dio perché non non è una cosa che ho ricercato tant'è che questo poi mi è stato detto anche da molte persone che appunto erano intorno a me che anche quando sono tornata poi a partecipare a tutte le attività parrocchiali quando ho chiesto di fare la crisi ma mi dicevano ma com'è che Camilla si è riavvicinata così tutto insieme cosa è successo e quindi era una cosa che notavano in tanti anche i miei amici con cui poi ho condiviso tutto questo e quindi è stato un cambiamento che penso sia stato esclusivamente guidato dall'alto poi ovviamente avevo delle esperienze quindi qualcosa che veniva da prima che da cui poi ho saputo prendere qualcosa che mi arricchisse dentro che già comunque era un po dentro di me che poi ha assunto un significato sempre più profondo Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!